Peggy 18 Di sicuro Il baratto di vernici non va bene Dovremo pur trovare qualcosa Ah è ciacche che sono Vabbè la teniamo aperta con la chiave inglese Il baratto di vernici non va bene C'è una radio abbastanza utile per lei che si tratta con la chiave inglese C'è fuori, ma significa qualcosa per lei Oh, ho capito Cuidate, è una caccia che si tratta Hai questa ragazza che si tratta con la chiave inglese? Guarda, non ho bisogno di una Non ho bisogno di una, è buono Ma dovrebbe essere capito di essere Di dove sei? San Francisco Geez, una lunga via da casa Lui è un professore di storia Aspetta, ora, no, c'è da andare a parlare con Omid Perché ricordo che lì è un professore di storia È un professore all'università di Savanna Quattro Allora, un professore di storia Parliamo a te dopo Ok, andiamo laggiù e usiamo la fottuta chiave inglese per tenere aperta Quella porta Anche se il baratto di vernici era utile Funzionale, diciamo Vabbè andiamo Però mi dispiace Non si possa premere shift per andare più veloci No aspetta aspetta Si sono sballati I comandi Per la via della prospettiva Via Grazie 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 Non sono tanto convinto Grazie 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 il rai di risultati non stelle già se c'è altro e c'è qualcos'altro di usi no, andiamo almeno parleranno un po' della guerra civile ha, ha, scotch scotch bealezione hope this holds that's crazy look at it go just about got it whoa, thanks no sweat, man this thing is hanging by a thread the smallest cut and it'll go I can't reach it now e se magari tirassimo il freno a mano ok spingiamo dammit it was just about done too crap crap caca my god 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 this would create one hell of a fireball if we tried to blast through si ma allora fallo cadere secondo se la soluzione migliore è troppo in là dal bordo sicuro che non possa sicuro che non possa oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda there's something coming what the what there must be thousands we gotta go fuck owe me cut i am it's going pull me up Kimi, vai! Shit! What the hell do we do now? With the god this works. Holy crap! We gotta jump! What? No way! Guys! Jump! No! Jump, dammit! Still no! Fine! Ah! 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 Shit! Run! Oh, mead! You son of a bitch! Save him! Oh, mead! Oh, mead! Sono un imbecile, io ho preso il primo. E ho preso il primo che passava, amica. Ah! That was a lot of them. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine, Clementine. We're fine. Non è che abbia fatto tanto il fuoco che abbiamo fatto. Uh, la città. Savanna. Non è che abbia fatto tanto il prove, che... non è che abbia fatto tanto admittedne. Come abbiamo una Delta Kiss? Non è e che abbia costruita di questa Travis ofonia. La prossima stop, l'Atlantic Da Costa Est La prossima stop, l'Atlantic What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine I got your parents right here And you be sure to find me Whether the lead wants you to or not Now, what I need Holy shit I thought that fucking thing was broken So did I Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents You all might want to rethink your plan Oh, shit What the fuck was this? Okay Okay, it's finished the episode We're almost at the river You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here I know I promised that we'd find your parents But Savannah's more dangerous than I thought it would be I don't know how much longer he can keep on like this If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him Or leave him If I were you I'd get out of the street Now Who the hell is this? Answer me, damn it So when were you going to tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you You understand? I will kill you Che è quello? Dietro ogni angolo Okay Okay, vediamo Dolce morte misericordiosa Hai sparato la ragazza in strada? Tu e il 40% dei giocatori l'hai sparato Ricordate La ragazza all'inizio Lasciata lì Hai abbandonato Lily? Tu e il 42% dei giocatori l'hai lasciata lì Eh, scusate, io con me non la portavo Scontro Hai lottato contro Kenny? Tu e il 55% dei giocatori? Lo hai combattuto Lo ha combattuto Okay Hai sparato a Duck? Tu e il 79% dei giocatori li ha sparato Hai aiutato Omid? Tu e il 44% dei giocatori non ha aiutato Omid Ma io ho visto la prima persona che passava Okay Io spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi raccomando Iscrivetevi, scusate Iscrivetevi al canale FireClan Ovviamente Se avete voglia passate anche dal mio canale personale Emanuele V11 e Enco E ripeto Se questa serie vi sta piacendo Vi invito a mettere mi piace Iscrivetevi al canale E qua da Emanuele V11 e dal FireClan soprattutto è tutto Alla prossima